4 giugno 1989, Solidarnosc vince le prime elezioni parlamentari parzialmente libere della Polonia dal dopoguerra. Fondato nel settembre 1980, in seguito agli scioperi nei cantieri navali di Danzica, il sindacato Solidarnosc, guidato dall'Ekwa Wenz, diviene negli anni il punto di riferimento per tutto il dissenso politico e sociale del paese. Nell'81 conta già 9 milioni di iscritti. La vittoria alle elezioni favorisce l'avvio di una serie di pacifiche rivoluzioni a carattere anticomunista in tutti i paesi dell'Europa orientale.